bene buongiorno benvenuti nella lezione numero 37 oggi terminiamo il discorso su sui giocatori artificiali in particolare vi spiegherò un ulteriore miglioramento che si può effettuare dell'algoritmo minimax abbiamo visto essere alla base di molti giocatori artificiali minimax con votatura alfabeta ci consente praticamente il tecnic a del taglio di risolvere se non altro di ridurre la complessità computazionale nei casi più difficili poi faremo un esempio di altro approccio di giocatore artificiale monte carlo che quello che che poi è consigliato in alcuni dei vostri progetti chiuso questo argomento il prossimo argomento se riusciamo oggi giusto a dare qualche definizione saranno i grafi perché è un argomento che interessa sicuramente alcuni dei progetti quindi è meglio anticiparlo rispetto agli altri argomenti del corso bene dove siamo arrivati abbiamo detto l'ultima volta abbiamo fatto anche l'implementazione del minimax con portatura alfabeta abbiamo detto che la portatura alfabeta ci consente di di ridurre la complessità computazionale di un bel po in particolare quindi passare da una complessità che nell'ordine di b alla di dove b è il numero di mosse medie possibili e di e la profondità del nostro taglio a b alla tre quarti di di che sembra poco ma è un bel miglioramento ora la cosa importante per continuare questi discorsi e ricordarsi la tecnica del taglio però penso sia abbastanza semplice ovvero ricordarsi che per noi è impossibile il più delle volte arrivare ad una profondità di gioco tale da esaurire tutte le possibili partite ovvero le possibili vittorie sconfitte e patte pertanto dobbiamo fermarci nell'esplorazione a un certo livello che chiamiamo appunto livello di taglio ed è un livello che più è alto più e profondo più è forte la nostra intelligenza artificiale infatti l'altra volta il vostro collega abbattuto il abbattuto il il giocatore artificiale di tris non tris forza 4 insomma quello che abbiamo fatto l'altra volta a livello 5 però io credo che a livello 7 di profondità non credo che sarebbe altrettanto facile batterlo ora però il discorso un altro il discorso è una volta che uno usa perché deve usare gioco forza la tecnica del taglio potrebbe succedere qualcosa di particolare ovvero voi immaginate che tutto questo algoritmo si basa sulla funzione di valutazione cioè su quella funzione che ci dice in un determinato stato qual è la probabilità di vittoria quindi per max ovvero un valore positivo e qual è la probabilità di sconfitta per min quindi un valore negativo noi ci fidiamo di questa funzione di valutazione però la verità che sta tutta lì l'accuratezza l'intelligenza dell'algoritmo cioè più è fatta meglio è meglio funzionerà più forte sarà la nostra intelligenza artificiale ora però per quando noi ci sforziamo di fare bene noi quando valutiamo uno stato non stiamo valutando se no armo risolto il problema lo stiamo valutando in prospettiva futura in maniera profonda e se no non sarebbe una funzione di valutazione sarebbe una magia cioè non possiamo noi fermandoci ad un taglio prevedere troppo in là nel futuro appunto perché ci stiamo fermando questa è la definizione di taglio e allora guardate cosa potrebbe succedere potrebbe succedere che supponendo prendete questo albero di gioco in cui è stato deciso di fare un taglio a questo livello è il secondo livello però non è importante quale sia è stato fatto un taglio e sono state calcolate le funzioni di valutazione per ciascuno dei nodi quindi le funzioni che ci danno il valore della partita in quel in quel modo questo è un valore positivo quindi sarà qualcosa di positivo per il giocatore max che ne so che chiamiamo magari a 0 è un valore di patta 6 di nuovo positivo per max e meno 6 invece un valore positivo negativo quindi un valore vantaggioso per mille ora il discorso è immaginate un caso pratico immaginate che state giocando a scacchi e vabbè questi sono degli stati determinati dalle mosse ora però supponete che questi stati che sembrano innocenti tra virgolette nascondono nel prossimo livello quindi nelle prossime mosse possibili una svolta nella partita immaginate proprio un uno stato che sembra tranquillo ma dopo il giocatore avversario umano artificiale sta per fare una mossa potrebbe fare una mossa che ribalta per esempio la partita che significa ribalta che in quel momento la partita sembrava aver preso una certa strada all'improvviso arriva una mossa e bom si ribalta si ribalta tutto questo negli scacchi succede spesso succede spesso con giocatori professionisti che magari fino a quel momento sembrano condurre una partita quasi normale poi all'improvviso tutto di un colpo la loro strategia converge verso una mossa specifica che mette il giocatore in crisi in realtà anche nel capatrice si può vedere questa cosa ovvero anche lì una strategia che non si capisce bene dove voglio arrivare poi a un certo punto arriva una mossa che di colpo ci illumina ci fa capire ecco era lì che voleva arrivare il giocatore è quella la mossa che ha fatto il ribaltamento della partita ora gli stati immediatamente precedenti ad un ribaltamento della partita si chiamano stati non quiescenti o instabili che significa non quiescenti che in apparenza sono degli stati in cui non succede nulla di particolare ma in realtà se noi potessimo guardare nel futuro quindi in un futuro più profondo rispetto a quello dove abbiamo tagliato ci accorgeremmo che sta per succedere qualcosa di grosso sta per essere messo in scacco matto il re sta per essere mangiato una regina eccetera eccetera cose che magari uno erano sfuggite e adesso sono invece più visibili come si fa a livello algoritmico a trovare gli stati che hanno queste caratteristiche perché è importante trovarli beh è importante trovarli perché non vogliamo che noi ci sfuggano degli stati che precedono immediatamente dei ribaltamenti di partita e se no come facciamo a dire che il nostro giocatore è intelligente per essere intelligente deve capire che uno stato non è di questo tipo perché se lo fosse se lo fosse sarebbe caso di andare un po più nel futuro un po più in profondità nel taglio per vedere come vanno a finire le cose ed è esattamente questo il discorso degli stati non quiescenti ovvero ci si ferma a livello di taglio che è quello dato però per ciascuno dei nodi del taglio si fa una ulteriore espansione quindi una volta applicato il taglio si fa un ulteriore espansione di una livello a che serve questo ulteriore espansione serve a confrontare i valori di della funzione di valutazione prima di avere fatto questo ulteriore espansione e dopo qual è il vantaggio il vantaggio è che prima di fare questo ulteriore espansione mi era stato detto che questo stato valeva 6 adesso facendo questo ulteriore espansione che significa facendo questo ulteriore espansione significa che ho considerato un'altra possibile dinamazione del gioco con altre possibili mosse e ho scoperto che a sinistra c'è un 12 e a destra c'è uno zero ora che questo sia un nodo di tipo max un nodo di tipo min anzi probabilmente questo è un nodo di tipo min ma non è questo il problema il problema ragazzi che c'è una grossa differenza numerica proprio tra quello che io avevo valutato prima di questa ulteriore espansione e dopo perché siamo passati da 6 a 12 e da 6 a 0 ovvero se siamo il giocatore max questo diventerà non più 6 ma 12 se siamo mini diventerà non più 6 ma 0 quindi la differenza in termini di modulo la differenza proprio numerica è grossa che significa che è grossa che se io avessi fatto quest'ulteriore espansione avrei scoperto che queste sono delle mosse che possono ribaltare la partita o in un verso o nell'altro cioè facendo una mossa ottengo un grande vantaggio rispetto a quello che dicevo prima facendo un'altra mossa ottengo un grande svantaggio rispetto a quello che dicevo prima quindi dobbiamo porre attenzione allora il approccio è il seguente se uno stato ha la caratteristica che data la sua valutazione che comunque va fatta confrontata con le valutazioni della espansione di un solo livello questa differenza è troppo elevata c'è la differenza tra la valutazione che avrebbe senza l'espansione e la valutazione che avrebbe con una più uno espansione se questa differenza supera una certa soia per noi diciamo noi diciamo che quello stato è uno stato instabile in cui sta avvenendo qualcosa che che merita attenzione e siccome merita attenzione noi non ci limitiamo in questo caso a fare una sola espansione ne facciamo una alla volta però è quindi facciamo un'espansione verifichiamo che non è uno stato coesciente e allora significa che sta avvenendo qualcosa di grosso bene allora ricorsivamente diciamo adesso su questi nodi in cui è avvenuto qualcosa di grosso importante andiamo di nuovo a fare lo stesso discorso ma per caso sono anche loro dei nodi non quescenti facendo un'ulteriore espansione in realtà ci accorgiamo che no non sono nodi non quescenti cioè quello che doveva avvenire il grosso le cose importanti sono avvenute in questo livello in quest'altro livello invece vedete 12 è la valutazione che abbiamo dato prima di fare quest'ultima espansione dopo aver fatto l'espansione abbiamo 13 e 10 quindi questo dovrebbe diventare se questo è max questo diventa 13 quindi una differenza di 1 e lo stesso qua diventerebbe anziché 0 diventerebbe 1 quindi qual è il discorso applico la tecnica del taglio e per ciascuno dei nodi verifico ricorsivamente di trovarmi in uno stato coesciente e quando arriva ad uno stato coesciente mi fermo cioè io non voglio trovarmi mai a dover assegnare una valutazione ad un nodo che rappresenta un pre ribaltamento della partita perché significa che io ho tagliato nel punto sbagliato sono stato sfortunato e ho tagliato poco prima che stesse avvenendo che avvenisse un ribaltamento di partita di gioco quindi non va bene allora è vero che devo fare il taglio ma per ogni nodo devo controllare che quello stato è uno stato tranquillo come faccio un'ulteriore esplorazione confronto le funzioni di valutazione se sopra una certa soglia hai attenzione va bene ok non è coesciente però adesso lo stesso discorso per ciascuno dei nodi in cui sono atterrato di nuovo questo discorso si va avanti ragazzi uno dice ma così stai facendo l'esplorazione dell'albero completo no perché gli stati non coescenti sono pochi negli scacchi stiamo parlando di pedine molto importanti che determinano dei ribaltamenti di partita degli scacchi matti delle regine che vengono mangiate eccetera nella dama possono essere delle mangiate multiple delle mangiate di dama per esempio se il giocatore avversario c'ha una sola dama la doppia pedina e viene mangiata solo quella quella l'unica che c'ha e beh quello è un ribaltamento perché aveva un enorme vantaggio e di colpo bomb non ce l'ha più quindi sono questi stati non coescenti e in un gioco ce ne sono tipicamente pochi quindi questa esplorazione che sembra quasi rinnegare la nostra intenzione di fermarci ad un taglio in realtà viene fatta localmente in pochissimi casi eppure questo semplice approccio questa semplice miglioria che non influisce di fatto sulla complessità perché avviene molto raramente influisce molto invece sull'intelligenza apparente percepita dell'algoritmo e quindi diciamo se prima il nostro giocatore artificiale poteva essere fregato beh adesso diventa sempre più difficile fregarlo difficile perché abbiamo detto con potatura fa better riusciamo ad arrivare a profondità 7 nel più della più dei casi che è oltre l'umano intelligibile in più il nostro algoritmo capisce anche quando a terra in uno stato prima di un ribaltamento di partita e quindi va ad esplorare fino a che la partita diventa stabile beh ragazzi se implementate questo più la potatura fa beta più la il taglio a profondità 7 beh è difficile anzi è impossibile che un umano riesca a battere una macchina con queste caratteristiche un algoritmo con queste caratteristiche ok non finisce qui perché ci sono altri miglioramenti che è possibile fare alcuni di tipo diciamo di complessità quindi per risparmiare un po di memoria un po di computazione però ricordatevi che ogni risparmio di computazione vi consente di spingere ulteriormente la profondità e quindi dove migliorate migliorate il vostro giocatore sta diventando sempre più forte come si fa beh per esempio in realtà quando noi stiamo esplorando l'albero di gioco che un po queste due cose sono un po parenti è possibile che poi facendo una di quelle mosse andiamo a riesplorare gli stessi rami cioè noi a ogni a ogni minimax probabilmente stiamo facendo le stesse considerazioni più volte quindi anziché sprecare queste informazioni cc è possibile salvare un po di queste esplorazioni quindi memorizzarle per poterle poi risfruttare alla prossima interazione di gioco e questo consente di risparmiare un po di calcoli e quindi magari di andare un po più in profondità ovvero per esempio se uno deve fare la il calcolo della funzione di valutazione che magari è quella che impiega del tempo quando siamo in uno stato ecco ce la salviamo magari che ne so è un numero se lo salviamo in un vettore in una lista in una struttura che ci ricorda che noi in quello stato già ci siamo stati quindi mi sembra una mappa che ci associa stati a valori valori calcolati dalla funzione di valutazione e quindi quando noi riatterreremo in quello stato beh invece di calcolare la funzione di valutazione abbiamo il valore già pronto poi ecco nell'esplorazione dell'albero noi non abbiamo mai parlato di conoscenza umana del gioco cioè chiedi chi implementa un buon giocatore di scacchi artificiale beh sa giocare a scacchi tipicamente perché riesce a implementare dentro l'algoritmo anche le sue conoscenze di gioco che significa che per esempio in base all'esperienza ci sono alcune mosse che non vale proprio la pena esplorare allora perché fare tutta l'esplorazione dell'albero di gioco di mosse che già so per esperienza essere non promettenti pertanto sfruttare la conoscenza del gioco permette al programmatore di esplorare l'albero di gioco non alla cieca tutti i nodi tutte le mosse possibili ma quelle più promettenti quelle che secondo l'esperienza sono più promettenti stesso discorso discorso del tutto analogo per quanto riguarda l'apertura e la chiusura di un gioco cioè negli scacchi non è che uno noi possiamo certo implementare un giocatore di scacchi che fa l'apertura con i minimax ovvero va proprio lì a calcolare tutte le possibili mosse dall'apertura eccetera ma è stupido perché negli scacchi è noto che alcune aperture sono buone altre aperture non sono buone un'apertura che scopre il re beh non è molto intelligente e altre considerazioni si possono fare per altre pedine quindi il giocatore artificiale potrebbe beneficiare di un database cioè una 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 raccolta di ottime mosse di apertura ma anche di ottime mosse di chiusura cioè quando il giocatore avversario è in difficoltà negli scacchi ci sono delle strategie per dare il copo di grazia quindi anziché usare minimax per calcolare tutti i possibili anche quelli quelle in cui quelle strategie che praticamente fanno soffrire il giocatore umano ce la portano portano la partita per le lunghe è possibile invece dare il copo di grazia poi un altro miglioramento e questo è il miglioramento più importante per quanto riguarda i giochi che hanno una componente casuale il minimax si può estendere per i giochi per i giochi che hanno una componente stocastica quindi per esempio il baggemon ma tutti i giochi in cui c'è anche bejeweled il 2048 c'è tutti quei giochi in cui c'è un elemento di casualità nel baggemono sono i dati e in molti giochi da tavolo tra l'altro ci sono i dati pensati ai giochi di carta eccetera attenzione però l'informazione deve essere sempre nota il poker non va bene perché ci sono cioè non si sa quali sono le carte sul sul tavolo sono sono coperte e se sono coperte per il giocatore umano deve essere coperte anche per il giocatore artificiale altrimenti è barare e poi ci sono i giochi in cui la casualità è meno visibile ma c'è per esempio nel baggemono il giocatore avversario che ha la componente casuale è quello che vi fa cadere le nuove gemme in maniera casuale dall'alto o nel 2048 quello che muovendo la griglia vi dà delle nuove celle delle nuove caselle numeriche un po a caso come capita quindi ci sono effettivamente giochi in cui c'è un elemento di casualità allora una modifica che si può fare non è molto difficile ragazzi su wikipedia trovate l'algoritmo con una leggera differenza rispetto a minimax la leggera differenza sta nel fatto che mentre nel minimax abbiamo livelli alternati min max min max min max ogni livello alternato significa che ogni giocatore il min sarà l'avversario umano max per esempio l'avversario artificiale sa quali sono le mosse possibili ma se c'è una componente stocastica voi non potete sapere a priori che quelle mosse possibili avverranno tutte con la stessa probabilità cioè è possibile che ci sia un ulteriore elemento nel gioco che è il caso che fa avvenire le mosse con una certa probabilità rispetto ad altre o per esempio non so magari c'è un lancio di dati quindi se devo fare devo spostare una pedina di tot caselle determinate dal dato non tutti se ho due dadi non tutte le combinazioni hanno la stessa probabilità cioè la probabilità di fare 12 6 più 6 non è la stessa probabilità di fare che ne so 66 si può fare con tre più tre con due più quattro con quattro più due cioè nei dati non sono equi probabili se ho due dati le probabilità di compiere n mosse quindi le mosse possibili da quello stato di gioco non sono tutte equi probabili pertanto la soluzione proposta da expect minimax expect state expectation che in inglese e la è quella che viene usata come simbolo per la media e in effetti è proprio questo che si fa tra i livelli mini max si interpone un livello di probabilità chance cos'è questo livello di probabilità è un livello fittizio sono degli stati fittizi il cui valore è la combinazione lineare pesata secondo la densità di probabilità ovvero ragazzi è la media secondo la densità di probabilità del valore dei figli possibili secondo in seguito un determinato evento stocastico cioè per esempio un nodo chance un nodo chance potrebbe essere il lancio di dati il lancio di dati mi dirà con quale probabilità il giocatore successivo compierà quelle possibili mosse e quindi io calcolerò come valore il la media cioè l'expected expectation la media probabilistica non la media così aritmetica quindi la combinazione lineare pesata dove quindi la somma di tutti i valori dei figli pesati moltiplicati per le loro probabilità di di avvenire ok vabbè ulteriori dettagli ritrovati mi trovate su wikipedia però l'idea è appunto questa quindi non abbiamo più due livelli ma tre livelli min max e livello di probabilità livello di tipo di tipo chance ok bene l'argomento sarebbe terminato però quest'anno ho voluto non ho fatto delle slide perché davvero un approccio che si spiega più praticamente andando nella pratica che si spiegherebbe con due frasi con una con una slide non varrebbe non varrebbe la pena in alcuni giochi di alcuni progetti di quest'anno vi ho detto di usare e potete usarlo in realtà in tutti i giochi e dipende ora vediamo da cosa dipende però si può usare praticamente dappertutto l'approccio di monte carlo allora l'approccio di monte carlo se noi andiamo di nuovo nel nostro albero di gioco è un approccio veramente ma veramente ignorante ed è questa il vantaggio di monte carlo cioè mentre mentre nel mini max noi abbiamo la necessità di definire una funzione di valutazione che negli stati intermedi ci dica quanto vale quello stato e la funzione di valutazione deve essere la probabilità di vittoria di patto di sconfitta ora vi ho già detto e vi ripeto che in un giocatore artificiale basato su mini max è questa la cosa più difficile da fare perché i mini max è un algoritmo che sempre quello se voi lo potete prendere tale quale da codice che abbiamo fatto insieme computatura alfabete a quello che vi pare il codice è quello le difficoltà sono di tipo gestire gli andu del gioco quindi un problema computazionale e tra l'altro mi aggancio a questo dicendovi che ho migliorato l'intelligenza artificiale del capatrice proprio agendo sul pushback push front delle mosse quando facevo la quando facevo landu cioè bisogna stare attenti a quei dettagli computazionali che mi fanno crescere la complessità e se io sto attento posso poi spingermi ad una profondità più elevata in quel caso con voi ci siamo spinti fino a 5 perché era il massimo si poteva fare facendo una piccola modifica nel codice prendendo più efficiente sono arrivato a 7 e se uno magari si inventa chissà quale marchi ingegno è quello il punto di prendere il massimo efficiente il proprio codice potrebbe spingersi a profondità persino superiori ora quindi la difficoltà di questi giocatori artificiali e quindi di tipo implementativo cioè rendere le cose efficienti per potersi spingere più in là nella profondità ma è anche di tipo qualitativo cioè questa funzione di valutazione se è fatta male valuta male gli stati e se è valuta male gli stati noi lo freghiamo il giocatore artificiale ora nel caso del triste è banale tris possibili o nel caso di capatrice quanti quanti capatrice posso fare capatrice quanti che in ero cioè quanti elementi in diagonale in verticale orizzontale posso mettere per il giocatore artificiale meno quanti ne posso mettere per il pallino ok il problema che mentre nel triste facile nel capa in ero è facile e nel bejeweld mi sapreste voi dire nel bejeweld quale potrebbe essere una funzione di valutazione magari sì potete fare delle proposte le potete mettere sul tavolo ma vi accorgerete che in alcuni giochi queste proposte non sono convincenti cioè non sempre è facile trovare una funzione di valutazione che stimi con accuratezza le probabilità di vittoria per esempio nel bejeweld potrebbe essere il numero di mosse possibili in quello stato più mosse possibili ci sono in quello stato e per noi più quello stato a valore cioè che uno stato in cui è difficile perdere perché appunto ci sono tanti gradi di libertà non è detto perché magari ci sono tante mosse ma se io tra quelle tante mosse ne scelgo una in particolare poi le cose si potrebbero mettere immediatamente molto male nel seguito immediato quindi non è detto che questa sia una funzione di valutazione davvero affidabile o nel 2048 potrebbe essere il numero di caselle con un elevato valore di appunto preso di potenze di due 256 512 1024 ma anche lì non significa nulla perché potrei avere anche una bella raccolta di caselle grandi ma potrei avere una invece raccolta una collocazione di piccole caselle piccoli numericamente in punti sbagliati che rendono in quel momento il gioco poco promettente ecco come faccio a dire in punti sbagliati è molto difficile in alcuni casi dare questa valutazione bene allora sapete che fa l'approccio di monte carlo l'approccio di monte carlo se ne frega in effetti io l'ho implementato nel codice del k3s e notate che manca una funzione mentre nel k in e row di minimax c'era qui una funzione si c'era min val max val vabbè adesso non ci sono più ma c'era soprattutto un'altra funzione che si chiamava eval no dove stava ma prendo così faccio vedere c'era questa funzione che si chiamava eval che era il fulcro del gioco anche se non ci abbiamo speso tanto tempo perché era già implementata era quella che in questo caso fa la probabilità di vittorie come numero di possibili k elementi in sequenza della giocatore artificiale quindi croce mentre meno quelli del giocatore umano ripeto questa è difficile da scrivere in alcuni giochi e il bello di monte carlo e che non serve c'è monte carlo è un approccio puramente empirico puramente statistico che non ha bisogno della conoscenza del gioco mentre la funzione val non la può scrivere chiunque ha deve scrivere un programmatore che quel gioco lo conosce bene nei scacchi io per scrivere la funzione val del giocatore di scacchi mi sono dovuto studiare un sacco di roba quindi è una cosa complessa nel monte carlo non serve perché cosa fa monte carlo monte carlo come vi ho detto è un approccio estremamente ignorante allora fa le seguenti considerazioni sono in uno stato e devo devo scegliere una mossa è sempre quello il problema il giocatore artificiale deve scegliere la mossa deve scegliere la mossa migliore la più promettente ora nel caso di minimax la più promettente e ammazza devi fare l'esplorazione fino al taglio applicare la funzione di valutazione fare risalire nel risalire devi calcolare il minimo se stai al minimo e al massimo se stai al massimo di figli così che le cose risalgono nel momento giusto vabbè nel caso del monte carlo no è molto più semplice faccio sì le possibili mosse quindi da questo stato posso fare quattro mosse bene le faccio e valuto ciascuna mossa quindi lo scopo di monte carlo e di valutare ciascuna delle possibili mosse e possibili ciascuna delle possibili mosse come faccio a valutare da qui anziché fare un discorso di tipo fai tutte le mosse possibili fai valutazioni così coli e coli niente da quello stato fai e segui e tot dove tot è più grande e meglio è simulazioni che significa simulazioni simulazioni casuali di partite cioè mosse casuali quindi attenzione monte carlo non va da questo stato a tutti i tre possibili ma per esempio in una simulazione lui farà per esempio questa mossa poi questa mossa e poi magari questa mossa perché l'unica possibile quindi una simulazione monte carlo corrisponde a un particolare percorso di tutto l'albero di gioco a partire da quella mossa possibile una quindi non ne faccio una ne faccio tantissime e qual è lo scopo di farne tantissime più sono e più è probabile che io vado ad esplorare tutto l'albero di gioco quindi vedete nell'approccio di monte carlo io manco so esattamente come fatto quest'albero di gioco me ne disinteresso perché faccio partite casuali spero spero in che senso affidandomi alla teoria dei processi stocastici della probabilità al teorema centrale del limite mi affido al fatto che per n che tende all'infinito cioè con un numero di simulazioni che tende all'infinito quindi più elevato possibile io spero che queste simulazioni casuali coprano il più possibile quello che è il vero albero di gioco che però io non conosco nel monte carlo mi disinteresso di costruirlo allora che faccio per ciascuna di queste simulazioni devo avere un valore ce lo devo avere devo fare una valutazione quantitativa il valore sarà quello della vittoria sconfitta o patta perché queste simulazioni essendo solo degli unici percorsi non delle delle esplorazioni io posso fare queste simulazioni fino alla fine cioè posso portare la singola simulazione fino allo stato terminale del gioco che quindi mi ritornerà l'utilità quella sì che ce l'ho vabbè l'utilità che ci vuole vittoria vale mille sconfitta vale meno mille patta vale zero quindi per ciascuna delle mosse possibili eseguo un numero enorme di simulazioni simulazioni significa partite casuali cioè la prossima mossa è casuale la prossima casuale eccetera eccetera per ciascuna simulazione arrivo fino allo stato terminale del gioco e memorizzo questo punteggio che mi è stato dato di vittoria patto sconfitta bene in questa mossa ho eseguito che ne sono mille simulazioni di queste mille simulazioni che ne so il 70 per cento sono state vittorie il 30 per cento sono state sconfitte allora dico che questa mossa vale 70 per cento quindi vedete è una stima empirica della probabilità di vittoria ottenuta mediante calcolo di tutte le possibili vittorie sconfitte su un numero molto grande di simulazioni casuali del gioco quindi io sto praticamente campionando in gergo statistico dalla vera distribuzione di probabilità del gioco che è ignota è ignota perché io l'albero non lo sto calcolando quindi campionando 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 io spero che campionando tante tante volte la probabilità stimata della vittoria corrisponda alla probabilità vera questo è assicurato essere perenne che tende all'infinito ora nel minimax tradizionale la probabilità stimata è la probabilità vera se io arrivo fino alla fine del del gioco questa probabilità di vittoria che io arrivo che faccio risalire è la vera probabilità di vittoria quelle proprio vera però il minimax appunto per ottenere la vera deve arrivare fino alla fine del gioco ci mette secoli dei secoli e se non ci può fare fa un taglio e applica una stima anche lui probabilistica dove però la stima viene fatta sulla base della conoscenza del gioco quindi il programmatore che ci mette il suo nel monte carlo invece il programmatore può anche non sapere come si gioca fa tutte le simulazioni e si calcola poi il valore di quella mossa e indovinate un po quale sarà la mossa scelta siccome ogni mossa avrà calcolato in maniera empirica il valore la probabilità di vittoria ovviamente sceglierà la mossa con il valore più elevato di vittoria facciamo un esempio l'ho già scritto il codice perché comunque non possiamo dedicare altre due ore per questo altrimenti togliamo spazio di altri argomenti quindi intanto diciamo che mentre nel minimax abbiamo bisogno della funzione di valutazione adesso non ne abbiamo più bisogno quindi questo è il nostro framework di gioco ora il nostro motore di intelligenza artificiale quello che sta in run è fatto così quindi adesso vediamo appunto questo monte carlo nel codice come si come si coniuga questa cosa nel codice e magari una cosa che poi potreste potreste ispirarvi a questo codice nei vostri progetti allora abbiamo qua beh dichiariamo definiamo una mossa migliore che ancora non sappiamo qual è il punteggio della mossa migliore che per noi in questo momento è meno infinito noi ogni volta dovremo calcolare il massimo tra le nostre mosse valutate quindi questo ci stiamo predisponendo al calcolo del massimo e poi c'è un il numero di simulazioni per mossa quindi abbiamo un numero di simulazioni totali perché totali perché il nostro computer quello può fare non può fare cioè questo è un numero che va tarato in funzione si della difficoltà ma anche del computer dove ci troviamo cioè se ci troviamo su un computer di dieci anni fa e non posso spingere in questo caso sono pensate un milione di simulazioni sono tantissime cioè quando noi aspetteremo adesso la mossa lui farà un milione di partite casuali per capire qual è la mossa migliore ovviamente più ne fa e più la stima è corretta se vicina al vero ora questi sono il numero totali di simulazioni però noi dobbiamo dividerle per il numero di mosse possibili perché dobbiamo fare un numero di simulazioni più o meno lo stesso per ciascuna delle mosse possibili come nel caso dei tris qua se abbiamo un milione di simulazioni e quattro mosse ne faremo 250 mila per ciascuna delle mosse possibili ok bene allora dobbiamo valutare ciascuna mossa per valutare ciascuna mossa abbiamo un ciclo su tutte le mosse possibili il fatto che ci stiamo copiando in una lista separata le mosse possibile sempre lo stesso discorso ragazzi dobbiamo fare delle copie quando stiamo modificando quelle mosse possibili abbiamo fatto questo discorso per quanto riguarda i minimax allora guardate duca rent move ecco questo è esattamente questo passo qui nel monte carlo noi la mossa dobbiamo farla prima di poter valutare fare tutte le simulazioni e siccome dobbiamo farla ci sarà sia il fai la mossa e poi ci sarà anche il landu quindi fai quella mossa e poi fai landu di quella mossa ma attenzione nel minimax non si fa solo quella mossa e poi landu di quella stessa mossa ma lo si fa per ciascuno dei dei livelli dell'albero nel monte carlo no questo andu che vedete qua non lo vedete nell'altro nell'altra parte del codice quindi attenzione questo fai la mossa poi valuta quella mossa e file andu si fa solo per le mosse possibili da questo stato nient'altro quindi fai la mossa adesso da quella mossa fai 250.000 simulazioni e calcola quello che è successo andu fai la mossa 250.000 simulazioni calcola quello che è successo andu quindi in questo caso di andu se ne faranno quattro se sono quattro possibili mosse non è come nel minimax in cui si farà praticamente per ogni stato dell'albero di gioco si farà un andu perché bisognerà poi tornare al padre invece noi le nostre simulazioni ce le facciamo in maniera tale da non dover fare gli andu così risparmiamo anche computazione perché anche qui il problema è computazionale dobbiamo fare delle simulazioni quindi potremmo noi fare queste simulazioni potremmo effettivamente fare delle simulazioni arrivare ad una vittoria sconfitta patta e per tornare a questo stato ovvero per poter iniziare un'altra simulazione noi potremmo fare tanti andu per tornare a quello stato ma sarebbe uno spreco ragazzi perché guardate cosa possiamo fare semplicemente ecco qua save board vuoi fare le tue simulazioni beh allora sai cosa salva lo stato di gioco da parte fai la tua simulazione alla fine della simulazione ristora lo stato di gioco da cui ripartito quindi questo save board non fa altro che salvarsi la board la board attuale in una board copia quindi abbiamo mantenuto una copia quindi oltre ad avere la board abbiamo anche una backup board cioè una copia della della dello stato di gioco che noi salviamo questa copia con il metodo 6 indovinate un po il restore non far altro che prendere la copia e metterla nello stato attuale quindi con una sola copia senza fare andu riusciamo implementare il monte carlo come quindi abbiamo detto fai la copia fai la copia della board bisogna copiare tutto quindi devi copiare anche le caselle libere devi copiare anche la variabile di turno perché stiamo adesso noi per fare un sacco di simulazioni queste simulazioni noi che ne sappiamo che finiscono sul turno del giocatore al turno del giocatore b quindi noi questi dati li dobbiamo salvare e poi alla fine li dovremmo appunto restaurare non li ristoriamo qua se borda sì perché ristoriamo alla fine di ogni interazione quindi lo facciamo ogni volta quindi salviamo i nostri dati del gioco attuale e iniziamo a fare un po di mosse casuali quante mosse casuali tante quante ne abbiamo decise prima un milione diviso quattro mosse possibili 250 mila quindi per ciascuna mossa per ciascuna delle simulazioni da fare cioè questo è un ciclo che conta il numero di simulazioni guardate andiamo avanti finché il gioco non è finito quindi finché il gioco non è finito via le mosse possibili fai una mossa casuale vi ricordate la mossa casuale del giocatore quello scemo io dissi questo giocatore scemo perché fa le mosse casuali guardate un po il la curiosità adesso il nostro giocatore intelligente si basa proprio sul codice che noi avevamo buttato dicendo che era stupido perché faceva le mosse casuali quindi facciamo una mossa casuale eccola qua la mossa casuale e va andiamo avanti questa cosa va avanti finché il gioco non è finito ora perché lo stiamo facendo così perché nel k n ro sappiamo che il gioco finirà dopo un numero massimo di mosse è un gioco finito ci sono invece giochi infiniti nel 2048 nel nel big world nessun problema in quel caso anziché essere un ciclo di tipo finché non è finito anche lì può finire bisogna essere qualcosa finché non è finito e magari un un limite massimo a questo numero di interazioni quindi contate le interazioni dite io non mi spingo più di 30 in profondità 40 in profondità che a quel punto quando siete arrivati ad una profondità che non è quella finale la vittoria la sconfitta o la patta dovete dare di nuovo una valutazione però stavolta la valutazione la potete fare in maniera un po più sportiva rispetto alla valutazione del minimax per esempio il punteggio il punteggio nel 2048 è il punteggio c'è proprio il punteggio del gioco anche nel bel giugno c'è il punteggio quindi potresti usare il punteggio per dire vabbè sono arrivato ad uno stato intermedio non sono arrivato alla fine perché troppo lungo il gioco infinito però guardate già il fatto che voi siete arrivati a quello stato significa che non siete morti nel 2048 nel bel giugno si può può terminare prima la partita appunto per sconfitta qui già il fatto di esserci arrivati e di dargli un punteggio è una cosa molto positiva è in effetti quando adesso io sto facendo queste mosse casuali e mi fermo o perché il gioco è finito o perché ho detto io di fermarmi devo andare a inserire in quello che ho chiamato score average sarà la somma di tutti i valori delle partite che ho che sto simulando e poi alla fine dovrò fare la media quindi diviso per il numero di simulazioni quindi per ciascuna simulazione io gli sommo cosa gli sommo in questo caso il gioco è finito quindi gli sommo l'utilità cioè il valore terminale dei nodi ma guardate sto sommando l'utilità moltiplicata per il numero di celle libere in quel momento significa che meno caselle libere ci sono più è piccolo questo valore che sto dando questa vittoria sconfitta o sconfitta se è patta e 0 perché chi mi sa rispondere il motivo di questa scelta in realtà abbiamo fatto una cosa simile per il minimax è importante altrimenti il nostro giocatore montecarlo è un po scemotto ha bisogno di questa informazione ecco qui a differenza di minimax è fondamentale dare questa informazione siccome il giocatore montecarlo procede a caso non ha la contezza delle vittorie appunto che arrivano prima delle vittorie che arrivano tardi e c'è il rischio siccome fa la media attenzione siccome fa la media lui considera tutto uguale mentre il minimax non fa la media lui sì siccome lui fa la media e mettere nella media cose vittorie che arrivano fra due secondi è sbagliato perché le vittorie che arrivano fra dieci anni probabilmente non arriveranno sono troppo lontane nel tempo siccome noi stiamo facendo un giocatore casuale non stiamo considerando che il giocatore umano è furbo quindi farà in modo che quelle vittorie lontane non ci arriva pertanto è sbagliatissimo nel monte carlo invece nel minimax è solo una miglioria ma qui è sbagliatissimo pesare le cose in maniera uguale in tutte le profondità del gioco quindi è necessario per rendere monte carlo più intelligente di dire che le cose che avvengono prima sono più importanti di quelle che avvengono dopo perché più mi spingo in profondità e più sta emergendo un difetto che è il difetto di monte carlo che ignora l'ipotesi che facciamo nel minimax cioè che il giocatore gioca al massimo delle sue probabilità il giocatore umano gioca bene noi qui non lo stiamo considerando stiamo facendo mosse a casa qui non possiamo dire tutto è uguale a tutto pertanto in questo caso moltiplichiamo la vittoria per il numero di mosse possibili in quel momento quindi se ci sono meno mosse possibili significa che la vittoria è arrivata quando la scacchiera era ormai quasi tutta piena quindi dopo ok siccome ogni mossa noi togliamo qualcosa da da lo togliamo perché dentro move si toglie quella mossa allora arriveremo che questo questa lista di mosse possibili sarà tanto più piccola quanto più in profondità ci siamo spinti però dopo che abbiamo fatto questa è una simulazione dobbiamo farne tante dobbiamo ritornare allo stato originario quindi restore board rimetti le caselle libere come erano prima e rimetti il turno come era prima quindi questo è il restore dopo aver fatto il salvataggio quindi salvataggio simulazione torno al punto di partenza altra simulazione ne faccio tante alla fine calcolerò la media la media quindi la somma di tutti questi punteggi diviso il numero di simulazioni per quella mossa a questo punto devo aggiornare la mossa migliore se il punteggio di questa mossa e ho fatto già tutte le simulazioni è stato qua se il punteggio di questa mossa è il migliore del miglior punteggio fino adesso trovato significa che oltre ad aggiornare il miglior punteggio deve aggiornare anche la migliore mossa hai trovato una mossa migliore semplice ragazzi sembra un codice un po complesso perché ci stanno diversi cicli anni dati ma il ragionamento è quello che vi ho detto prima fai le mossa che devi fare e per ciascuna mossa valuta la per valutarla devi fare delle simulazioni quindi dovrai salvare lo stato attuale del gioco perché stai riusando la stessa scacchiera per fare le simulazioni quindi salvati il gioco fa la simulazione valuta la simulazione ritorna alla mossa originale e fai altre simulazioni alla fine calcola la simulazione lo score medio e se hai trovato uno score più grande aggiorna la mossa migliore tutto questo adesso chiederò di nuovo a chi di voi l'altra volta aveva vinto ora non sto dicendo che questo è imbattibile ovviamente sono un milione di simulazioni quindi più è alto questo numero magari si potrebbe anche andare in parallelo con i thread per spingere questo numero sempre più più in là è più forte questo giocatore quindi dire che questo è più o meno forte di minimax non è facile ragazzi diciamo che minimax tende a essere a parità di elaborazione di tempo di elaborazione tende a essere più forte il problema che minimax a volte non lo posso implementare come nel 2048 nel bejeweld o non lo posso è troppo difficile fare prego dove devo mettere il pallino c'è il ragazzo che l'altra volta ha vinto sì prof la metto bianco la x sulla sinistra qua qui sì 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 ok ora chiaramente io ho tarato il numero di simulazioni in funzione dell'attesa è un'attesa che si aggira attorno ai 20 secondi quindi se meno simulazioni sarà più veloce ma più debole più simulazioni sarà più forte ma troppo tempo ci metterà tra l'altro notate che io sto stampando anche il valore della mossa il valore della mossa trovata e questo è anche un modo per monitorare l'andamento della partita immaginate una barra di colore che so che vada blu a rosso dove rosso significa pericolo pericolo per il giocatore umano più è alto il valore significa che per lui dal punto di vista statistico monte carlo sta notando che la partita in questo momento è meglio di prima cioè la partita sta avvolgendo a favore dal suo punto di vista dell'intelligenza artificiale perché ci accorgiamo che il valore della migliore mossa è più elevato della prima migliore mossa dove devo mettere adesso il pallino sta pensando la metta sotto sempre tipo in diagonale però a sinistra quindi qui giù 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 qui sicuro ok beh certo se no se lasciavo la diagonale libera alla croce quella mi fregava in una mossa sola tra l'altro adesso se questo valore decresce significa che noi siamo stati bravi perché gli abbiamo tolto qualcosa se cresce aia è cresciuta tanto quindi in questo momento lui la vede la vede bene cioè lui dice ok mi hai fatto mi ha fatto contento adesso sta andando molto bene per me giocatore artificiale questo significa questo numero che è cresciuto vediamo se è vero però perché è un ragionamento empirico quello che fa dove devo mettere pallino sopra il cerchio quello sotto a tutto qua vediamo un po se questo numero cresce ancora significa che per lui dal suo punto di vista aumenta il vantaggio e sembra di sì per lui e può essere che è comunque un algoritmo empirico si può sbagliare perché non vede tutte le mosse una persa prof già dalla mossa precedente e vabbè mi dica dove devo metterla è indifferente tanto ha vinto lo stesso e beh perché se la metto qui lui la mette lì si la ha persa è ovvio che l'abbiamo persa ok quindi dove sta però il bello di questo approccio che ragazzi questo è un approccio ignorante è brutto essere battuti dall'ignoranza perché mentre minimax è un po sofisticato lo è perché va appunto a usare una funzione che valuta la stima la probabilità di vittoria quindi comunque c'è uno sforzo da parte dell'intelligenza magari ci sono gli stati non quescenti il minimax comunque un approccio complesso la potatura alfabeta mazza ci abbiamo messo tanto per parlare quanto ci abbiamo messo per implementare il minimax con potatura alfabeta io penso tra le lezioni di teoria e lezioni di pratica ci abbiamo messo più o meno 5 6 ore ora vi sto dicendo che il monte carlo che vi ho spiegato in 15 minuti fa la stessa cosa in questo caso però è ovvero implementa praticamente un'intelligenza molto 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 buona di questo ce ne accorgiamo per esempio se andiamo a implementare il tris proprio puro dovremmo vedere che le mosse che fa il nostro monte carlo sono le mosse ottime che fa il certo migliori simulazioni sono un po sprecate e in effetti questa è la mossa che faceva il nostro giocatore artificiale minimax e quindi il solito discorso mi batte se io non gli metto il pallino nella giusta posizione e quindi in questo caso dovrei metterlo qui per esempio per sperare in una patta ed è l'unico risultato possibile che si può ottenere quindi vedete e vedete anche l'andamento ecco questa è una cosa che voleva farvi vedere l'andamento della partita lui all'inizio la vede bene confidente è positivo poi io io la metto qui e lui dice è ancora positivo perché effettivamente ti sto mettendo pressione ma a un certo punto vedete come scesa e caspita si sta accorgendo che non sta andando così bene come pensava e in particolare adesso guardate zero c'è praticamente in questo momento il monte carlo già sa che finisce in patta in effetti così che finisce quindi vedete ci dà anche un'informazione in più rispetto al minimax cioè l'andamento di questo punteggio della migliore mossa ci consente per esempio di implementare una barra che per l'utente significa quanto l'intelligenza artificiale in quel momento è sicura di sé un po come immaginate un giocatore che sorride che soghigna se le cose stanno andando bene oppure un po più triste un po più penseroso oscuro se sta andando male questa è una cosa che per esempio nel minimax pure si poteva fare una cosa del genere ma qui è proprio c'è proprio una la 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 ricchezza numerica è più densa la 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 barra mentre in minimax abbiamo soltanto il il valore massimo minimo di figli ok abbiamo terminato il tempo disposizione spero che vi siate insomma divertiti